La signora che mi ha fatto l'ombo dell'Università Gabriele, il Corre di Musco, che chiederò un po' di spieghi, che è grazie, poi ci vedremo i giorni, a me ho, c'è il corpo dell'Ostratto. Ma io voglio dire perché in questo senso di scrivere, in questo senso, se non si fai la propria società e la propria fiducia d'està, non ha il potere necessario, ma non ha il potere necessario, ma non c'è il potere necessario. impulsabile. Come è stato fatto qui, ricordato, veniamo da questi anni a Cica, in un'unità di Cica, non c'è stato tante donne che ho contribuito con questa prestigione a formate, a creare delle curiosità, in modo per lo meno, cercando di stimolare il loro pensiero verso autori e amici che non fossero portando i miei tradizionali. E poi, in realtà, in c'è stato tante giovani donne, a un certo punto mi sono accorta che il mio risolute non era difficile, se stanno succedendo qualche cosa su questi nostri occhi, che iniziava di fuggirci e di, non colpito, di riportarci veramente con i miei piedi, dall'altro di quel momento è però impegnata in una, nella produzione, e io credo, invece, che aveva proprio l'accesso alla produzione di saluti miline, che si chiama conciliazione, che era un lavoro carriera, che si chiama con i miei piedi, quella che io chiamo la condivisione del lavoro. Grazie a tutti!